Perché oggi ho qui tutte persone che sono espressioni di queste sensibilità, che hanno dimostrato chi nel privato, chi nel privato e nel pubblico competenze e capacità e che ne dica qualcuno coerenza, che non è rimanere fermi nonostante lui, ma essere fermi rispetto ai principi di valore e interessi complessivi. Io non spenderò nessuna parola per attaccare il partito che ho servito con forza per 25 anni e che mi ha dato anche molte opportunità di essere sindaco e consiglio regionale, ma è vero purtroppo che quell'ideale liberale, europeo, garantista è stato svenduto al sovranismo, al populismo perché cosa non si sa. Io sono juventino, però non si può dire tutti i giorni... E lo dobbiamo dire che sei juventino, diciamo. Perché bisogna essere sinceri, non si può dire tutti i giorni che sono liberale, sono cristiano, sono europeo, sono milanista e scendo il campo con la maglia dell'Inter. Non si può. Questo è quello che è avvenuto. Qui tutti indossano la maglia dell'Italia. Abbiamo il piacere di avere Magistera Gelmini, che io ho conosciuto bambino... Grazie. Grazie a tutti.